Il trionfo di Gesù alla fine dei tempi sarà il trionfo della croce, la dimostrazione che il sacrificio di se stessi per amore del prossimo, all'imitazione di Cristo, è l'unica potenza vittoriosa e l'unico punto fermo in mezzo agli sconvolgimenti e alle tragedie del mondo. Lo ha detto Papa Francesco prima della preghiera dell'Angelus, recitata in piazza San Pietro, commentando il Vangelo di questa domenica, che propone una parte del discorso di Gesù sugli ultimi avvenimenti della storia umana, orientata verso il pieno compimento del Regno di Dio. Il nucleo centrale è il suo ritorno alla fine dei tempi, ha sottolineato il Papa, e la nostra meta finale è l'incontro con il Signore Risorto. Nell'attesa siamo chiamati a vivere il presente, costruendo il nostro futuro con serenità e fiducia in Dio, perché Gesù è contro i falsi profeti, contro i veggenti che prevedono vicina la fine del mondo, contro la curiosità per le date, le previsioni, gli oroscopi, e concentra la nostra attenzione sull'oggi della storia. Quanti di voi leggete l'oroscopo del giorno? Zito. Ognuno si risponde. E quando ti viene voglia di leggere l'oroscopo, ma guarda a Gesù che è con te, è meglio, ti farà meglio. Nelle avversità, la sua parola rinfranca i nostri passi, ha concluso il Papa, è necessario guardarlo e ci cambia il cuore.